Noi siamo del servizio di rimozioni di Roma e a novembre hanno sospeso il servizio per delle problematiche riguardanti alcune associate del consorzio. Non siamo vittime della crisi ma soltanto perché ci sono state queste problematiche. Noi oggi siamo qui con la speranza che 60 lavoratori che sono a casa da novembre e qualunque decisione venga presa dal comune ci faccia ritornare a lavorare anche a noi. Va avanti così, siamo tenuti sempre fermi senza sapere niente. Siamo in attesa di qualche cosa, speriamo presto perché andare avanti con la famiglia è un po' difficile adesso. Si gira una voce che noi speriamo che l'Atac ci venga a lavorare, siamo 60 persone e adesso speriamo un po', insomma. Stiamo senza stipendio probabilmente, il cassa integrazione non la prendiamo da novembre.